Head Rock'n'Roll, anche quest'anno Rock'n'Roll 95 alla grafica del famoso album dei Motorhead, uno sci caratterizzato da una larghezza al centro di 95 mm e un rocker in spatola e in coda per permettere naturalmente un'ottima sciata in fuoripista, infatti questo è uno sci che noi consigliamo prevalentemente per il fuoripista. Quest'anno abbiamo anche una grossa novità che è il nuovo attacco Adrenaline, un attacco d'alpinismo Freeride che permette senza sganciare lo scarpone dall'attacco di poter salire con le pelli e sempre con il bastone c'è la possibilità di andare a variare le due altezze di appoggio in base alla pendenza da affrontare.